Sulle buone notizie parliamo della cerimonia tenutasi a Palazzo di Città. L'associazione Enjoy Your Dive, presieduta da Luca Pellicoro, ha consegnato a Lido Lamaré, incomodato d'uso gratuito, del materiale destinato a rendere più facile l'accesso al mare di persone diversamente abili e permetterà a loro di poter svolgere attività fisica in acqua. La cerimonia si è tenuta alla presenza del presidente della provincia di Taranto Giovanni Gugliotti e della consigliera comunale Carmen Casula, in rappresentanza del comune di Taranto. Il materiale è stato acquistato dall'Enjoy Your Dive grazie ai proventi della pubblicazione e della vendita dello short novel alla forza del mare, un racconto dell'autrice Giussi Romeo, che è in collegamento telefonico con noi. Giussi, tu racconti una storia vera, che è quella di Mirko, ce la riassumi? Sì, Mirko ha avuto problemi fin dalla nascita. Quando lui è nato praticamente non poteva muoversi completamente, non muoveva gli occhi, non aveva l'istinto della suczione, non gli aveva notato molte speranze. Sinceramente i genitori erano un po' disperati. Poi, grazie alla tenacia dei genitori, prima e poi di Mirko, sono riusciti a ottenere i primi risultati e poco alla volta poi alla tenacia dei genitori si è aggiunta quella di Mirko stesso, che è riuscito a realizzare cose che molte persone che non hanno problemi magari non fanno mai nella loro vita. È andato a sciare, si è preso il brevetto da sub, non si è mai lasciato abbattere dalle sue difficoltà. Siamo proprio contenti di aver potuto fare qualche cosa per facilitare l'accesso al mare a queste persone, perché molto spesso anche nei lidi, in alcuni lidi, ci sono difficoltà per poter entrare in acqua. Continuiamo a parlare della donazione di questa mattina Palazzo di Città Enjoy Your Dive ha consegnato all'Idola Mare del materiale destinato a rendere più facile l'accesso al mare di persone diversamente abili. E noi ne parliamo con il vicepresidente dell'Associazione Cristiano Tenerelli. Il nostro motto è nato quasi spontaneamente. Ovviamente davanti nel mare il nostro scopo primario era quello di divertirci al mare, proteggere il mare, però poi l'amore per il mare ci ha portato anche a porci una domanda. La domanda era semplice, ma perché non poter permettere la fruizione del mare a tutti? In questo tutto ovviamente andavano a quelle persone che noi inizialmente pensavamo essere meno fortunate di noi in quanto diversamente abili. Con questa consegna voi oggi proprio permettete all'Idola Mare di entrare a far parte dei lidi della città di Taranto fruibili dai diversamente abili. In che modo sarà possibile per i disabili per esempio accedere al mare? La sedia Job è un grandissimo strumento. È uno strumento che permette di abbattere laddove ci sono delle barriere architettoniche o comunque naturali. Ecco, questo è il caso dell'Idola Mare. La sedia Job, grazie alla sua struttura, come la sua conformazione, permette proprio quello, permette di scendere quei gradini, a volte impossibili per un disabile, accompagnandoli fin dentro l'acqua, in galleggiamento, dopodiché da lì si apre il mondo del mare. Proprio fare attività, immergersi e vivere questo mondo subacqueo.